buongiorno e benvenuti a questo unboxing della cucina di bacco oggi non vi parliamo di una ricetta ma del calendario dell'avvento della kindle in distribuzione in questi giorni e lo trovate nei supermercati anche se noi l'abbiamo acquistato dal discount Lidl e l'abbiamo pagato 4 euro e 89 centesimi come potete vedere sul fronte alle 24 finestrelle tipiche delle festività natalizie mentre dalla parte posteriore troviamo una copertina e una quarta di copertina già perché quest'anno la kinder ha deciso di farlo a forma di libro dall'istruzione che qui riportate il calendario va piegato in questo modo per formare appunto un libro vediamo se ci riusciamo questa è la copertina la quarta di copertina con indicato i prodottini che ci andranno a trovare e le 24 finestrelle di natale andiamo ad aprirle ciao 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 abbiamo aperto tutte le finestrelle e questo è il contenuto 11 ovetti azzurri al latte 11 verdi al latte e cereali e 2 cioccolatini alla prossima